Un altro medico finisce nella cronaca giudiziaria. A Torino, il 28 marzo 2022, il dottor Giuseppe Delicati è stato arrestato dai carabinieri del NAS di Torino con l'accusa, per quanto riportato dalle agenzie di stampa, di falso ideologico in atto pubblico ed errore determinato dall'altro inganno. La procura aveva aperto un'inchiesta per l'emissione di certificati di esenzione dopo che gli era stata revocata la qualifica di medico vaccinatore. L'arresto è stato eseguito nella mattinata. Il dottore era in pensione anticipata e il suo studio era chiuso da gennaio. Alle ore 16 è stato organizzato un presidio in Piazza Castello in solidarietà con il dottore. Presente il gruppo No Paura Day di Torino, che non ha autorizzato la trasmissione delle interviste registrate da Beccellini Network. No Paura Day di Torino